allora buonasera buonasera a tutti benvenuti l'accademia è particolarmente felice di presentare questo libro di richard whitman un lavoro lungo e ben pensato costruito nel tempo e di avere tre relazioni importanti come quelle che abbiamo un libro che ricostruisce la delicatissima vicenda della ricostruzione della chiesa di san paolo dopo l'incendio del luglio del 1823 ma nel ricostruirlo mette in campo praticamente quelli che sono le modifiche di roma dalla prima fase della restaurazione quindi al 1823 la morte di più settimo canova è già morto e quindi il cambiamento profondo nel mondo della cultura delle arti a roma ma e arriva fino all'epoca di pio nono e quindi attraversa un momento fondamentale per la storia di roma dove anche la storia della chiesa si trova ad aver fronteggiare un processo di secolarizzazione ormai inevitabile al suo interno il monumento come viene ricostruito dal libro diventerà un po paradigmatico una sorta di simbolo di quello che sono proprio le trasformazioni della della città e della cultura e del senso anche dello stato pontificio del senso della chiesa di quello che poi sarà la politica anche di rinnovamento di riaccentramento sul roma sul mito di roma sul valore appunto della chiesa che sarà con il pontificato di pio nono per questo abbiamo tre studiose importanti dell'argomento che sono ve le dico in ordine di intervento katrin bris che ha insegnato storia contemporanea all'università di pari dus e all'instituto di politica di parigi giovanna capitelli scusa beh scusate in ordine elisabetta pallottino che insegna sto tu sei la seconda giusto ecco le che insegna cultura e storia del patrimonio al dipartimento di architettura dell'università di roma 3 e giovanna capitelli che storia storia dell'arte moderna sempre roma 3 al dipartimento di studi umanistici quindi io non ruberò assolutamente altro tempo ma sentiremo questi tre interventi da prospettive specifiche diverse e naturalmente alla fine sarà l'autore richard whitman a venire a chiudere questa presentazione grazie ecco adesso si sente ok boh io buonasera a tutti io vorrei cominciare nel ringraziare gli organizzatori di questa presentazione dell'invitarmi infatti è un onore parlare qua è la prima volta è forse l'ultima in vita mia ma è anche un piacere è anche è anche un piacere perché è vero che conosco richard da ormai parecchio tempo non direi quanto tempo e dunque ho molto sentito parlare di san paolo fuori le mura molto e sono dunque qui innanzitutto per celebrare in un certo senso la fine di un'avventura intellettuale quella del libro e la pubblicazione di un veramente un libro che io ritengo non solo bello ma importante allora certo richard whitman è uno storico dell'architettura e sotto questo aspetto io non ho veramente tutte le chiavi per commentare e ricostruire la chiesa in quanto libro di storia dell'architettura e ci sono qui delle colleghe che lo faranno molto bene ma io vorrei senza alcuna forzatura difendere l'idea che il libro di richard whitman sia anche un libro di storia politica non nel senso che arte e o architettura possano sempre essere recuperati dai storici per parlare d'altra cosa cioè di storia e di storia politica ma perché le vicende di san paolo fuori di mura sono in fondo al centro di un momento molto particolare molto specifico dell'evoluzione politica romana quella della restaurazione e in questo libro richard whitman ci parla di spazio di architettura di opinione pubblica di mondializzazione e infine di politica e su questo mi spiego il contesto nel quale l'incendio e soprattutto la lunga ricostruzione di san paolo fuori le mura è precisamente un contesto nel quale durante il quale il legame tra politico e religioso assume un significato ormai profondamente ancorato nello spazio e nell'architettura cioè un momento molto particolare molto speciale allora mi direte e avete ragione ma non è la prima volta ovviamente a roma nell'epoca moderna soprattutto dopo il sacco di roma la roma della riforma cattolica aveva una sua forma urbis in relazione con le funzioni religiose però è anche vero che il settecento ha visto io direi una una coerenza spaziale un po sparire non è un giudizio di valori ovviamente ma è piuttosto che il settecento romano si interessa alla città ma non in modo così io direi cruciale che dopo la ricostruzione dopo del seziencie il e questo fino a quello che possiamo chiamare l'electroshock che furono per la capitale i due momenti della Repubblica Romana del 98-99 poi del 1808 al 14 il momento dell'impero se l'ordine politico, sociale, religioso fu fortemente trasformato l'attacco più visibile all'ordine antico colpò lo spazio urbano il fatto di numerare le strade, il fatto di illuminare le strade il fatto di regolare lo spazio, il fatto di appianire la città moderna in un certo senso tutto questo è stato studiato benissimo per esempio da Marina Formica ma si può dire che la rivoluzione, che il caos politico in un certo senso si inserisce nelle crepe della forma urbis con il momento imperiale napoleonico come lo spiego benissimo Philippe Boutry tramite altre persone oltre il disciplinamento della società, dell'economia, della politica e della religione con la deportazione dei religiosi o la dissoluzione delle congregazioni intervengono in più queste due nuove visioni di Roma completamente dissacralizzanti che sono da una parte quella degli artisti antiquari architetti che ormai hanno di Roma una visione filologica una visione dell'antichità attenta a riscoprire e ripulire l'antico come era prima senza più legarlo alla stratificazione inventata della religione con l'antichità dunque sgomberare le rovine antiche ritrovare una specie di purezza nuova tutto questo viene messo in atto dal 1809 in poi con grande entusiasmo anche da protagonisti che ritroviamo nel libro di Richard Valadier Gliè, Camporesi eccetera ma la cosa importante è che questo sguardo antiquario ormai spacca la Roma della restaurazione dall'antichità spacca una continuità inventata e invocata fino allora con forza dalla Chiesa Cattolica nello stesso ordine di idee, di cose lo sguardo dei turisti che non sono più quelli del Grand Tour che sono quelli nuovi pieni di emozioni che sono interessati a frammenti d'arte che le commuovono a paesaggi che sono poco interessati invece a vedere in Roma una città tutta religiosa tutto quello che contribuisce a cambiare la percezione dello Stato romano ed è per questo che nel momento che ci interessa oggi negli anni venti è per questo che lo spazio è precisamente dopo una prima restaurazione abbastanza diciamo dolce a noge qualcosa che si pone in gioco in modo assolutamente cruciale per il governo della Chiesa sia temporale che religioso dunque per la restaurazione per i papi della restaurazione per della Genga in particolare c'è ormai la consapevolezza acuta che toccare allo spazio significa toccare all'ordine politico sociale e religioso non come decoro ma veramente nel suo fondo in questo contesto la politica dei cosiddetti zelanti prende corpo come da una parte una politica di ricupero della città ma anche di controllo politico molto forte come lo sapete un ordine repressivo alleato a una teologia della visibilità che si mette in moto controllando i spiriti con tutti gli esercizi spirituali eccetera eccetera ma controllando anche gli individui con le leggi santuarie le leggi sulle botteghe la chiusura del ghetto la condanna della massoneria la condanna della carboneria fino all'esecuzione di Montanari e Tardini nel 25 dunque siamo in un momento di chiusura forte e io non mi fermerò a lungo su questo ma la distruzione di San Paolo fuori di mura succede precisamente in un momento di grande chiusura politica in reazione a quello che fu percepito come una specie di contropossesso dell'URPS contropossesso iscritto nel tessuto urbano e architettonico un spazio che lungo da essere per i protagonisti un solo contenitore di valori quelli della chiesa ne era anche l'artificio perciò è per questo che la ricostruzione di San Paolo fuori di mura è anche una storia politica si può dire spesso va bene architettura politica eccetera ma in questo momento molto particolare io direi che è ancora più vero che quello che viene dato all'architettura e allo spazio come potenzialità politica e una particolarità di questo momento della restaurazione e del momento zelante e questo credo che Richard Whitman ce lo fa vedere chiaramente le discussioni sulla ricostruzione della basilica sulle quali io non mi soffermerò perché penso che se ne riparerà molto di più sullo stile da adottare in pristinum o nuovo ovviamente fanno riferimento a quello che ho appena accennato cioè in quale direzione vuole andare la chiesa tra una modernità tra virgolette con Salviana o una rifondazione voluta dalla Genga dunque le scelte architettoniche sembrano molto chiare invece quello che apre questo dibattito in apparenza estetico elitista della scelta stilistica apre e questo lo vediamo bene nel libro di Richard Whitman e quello che a me mi sembra come storica molto importante si vede che si apre in questi stati pontifici soffocati dalla censura dal controllo poliziesco dalla paura delle funeste idee e dallo spirito di parte un spazio per quello che Richard aveva già studiato alla fine del Settecento in Francia cioè l'opinione pubblica l'opinione pubblica che come nella Francia monarchica pre-rivoluzionaria prende pretesto dell'arte per parlare di politica di libertà libertà di creazione di gerarchia gerarchia delle arti di individuo di artisti di individualizzazione se volete della creazione dunque parlare di spazio parlare d'arte discutere di questo in una città dove di recente vent'anni prima neanche arte urbanistica sono stati modi di distruzione dell'ordine secolare della Chiesa non può negli anni venti non essere una prima apertura un'apertura a quello che diverrà poco a poco l'opinione pubblica l'opinione politica la seconda cosa di cui il libro di Richard Whitman testimonia è la nascita di un'opinione internazionale e questo è molto interessante attraverso la richiesta dei fondi promossa da una stampa sempre più internazionalizzata possiamo vedere con un po' d'anticipo perché generalmente si data piuttosto dagli anni trenta questa esplosione mediatica vediamo già negli anni metà degli anni venti l'uso di una stampa che non è ovviamente ancora la stampa moderna ma l'uso della stampa a livello internazionale è una specie di pre-ripetizione da quello che verrà poi usato per i grandi scandali degli anni 50 la ferpoerio eccetera eccetera e lì è interessante vedere come la chiesa benché forse inconsapevolmente ma usa molto presto di mezzi di comunicazione estremamente moderni e relativamente efficaci dunque in questi specifici anni mi sembra che discutere della ricostruzione di San Paolo fuori le mura è un modo di fare politica un modo di avere un'opinione anche politica in uno stato per chi la politica è spirito di parte e dunque infrange l'unicità sognata della chiesa di questo se ne potrebbe convincere seguendo la storia di San Paolo con più nonno papa liberale con tante virgolette lo sappiamo benissimo San Paolo come il Duomo di Colonia ha studiato da Niperdei e lo dice Richard Whitmana diventa alla fine una basilica nazionale quello è molto interessante perché una nazione che non è più rinchiusa nel religioso perché viene rinchiusa in un altro sistema di valori un altro intreccio se volete che non è più quello di prima durante gli anni 46-49 il cantiere di San Paolo viene se si può dire secolarizzato al punto di diventare una riserva di materiale edilizio per le barricate durante la Repubblica Romana soprattutto voglio chiudere su questo mi sembra estremamente interessante che se la proclamazione del dogma dell'immacolata concezione nel 54 fu largamente commentato come ci dice Richard Whitman nella stampa internazionale non si disse nulla della consecrazione di San Paolo fuori il muro Richard propone un'interpretazione una spiegazione molto convincente su quello che si potrebbe chiamare il rimpiazzamento di San Paolo da un culto mariale un culto un po' diverso e io lascerò ai specialisti di storia religiosa il compito di dire se si o no si può accettare questo io ne proporrei un altro che non è per niente contraddittorio mi sembra che nel 57 l'età del pre-politico è ormai finito l'età della politica che si fa attraverso altri temi di cui l'arte è ormai sorpassato il dogma dell'immacolata è un'arma di guerra politica anche politica e dunque la chiesa entra nell'era della politica moderna con difficoltà lo sappiamo bene ma deve fare i conti con la secolarizzazione con l'individualizzazione che ha ormai contaminato la penisola dal neogelfismo in poi dal momento che il neogelfismo fa pensare la chiesa in termini politici moderni e in questo senso San Paolo fuori le mura è un oggetto pienamente politico e questa è la lettura che io ho fatto di questo bellissimo libro perché alla fine ci fa capire che cosa è fare politica nell'età della restaurazione grazie allora grazie anche io ringrazio gli organizzatori e dico subito che questo libro oltre a essere sicuramente un libro importante è anche un libro godibilissimo spiego perché in realtà quando mi è arrivato da chi mi aveva invitato da Richard da Cecilia Palombelli dall'Accademia di San Luca io mi sono spaventata perché 400 pagine non troverò mai il tempo per leggerle siccome di solito ancora non presento libri senza leggerli tutti dall'inizio alla fine purtroppo ho detto oddio come farò invece che è successo che l'ho letto con una forma come si legge un giallo cioè a un certo punto è stata come una droga leggera avevo una dipendenza non ce la facevo a staccarmi veramente lo giuro e così e non me lo aspettavo assolutamente questo lo dico perché la scrittura di Richard è una scrittura ironica questo è molto divertente leggerlo poi questo libro ha tutta una serie di intermezzi di vita vissuta che poi quando me ne sono accorta ha cominciato a segnarmi ma prima non me ne ero segnati quindi adesso qualcuno mi viene in mente del tipo vabbè ovviamente l'incendio ma l'amicizia fraterna di Poletti e le Tarui il loro carteggio appassionato è una cosa veramente bellissima la bandiera tricolore della Repubblica Romana il corteo di ritorno al Vaticano in realtà su strade molto fangose dopo la consagrazione l'apparizione in sogno della Vergine Maria a Poletti dopo che aveva e quindi allora io questi ho segnato però in realtà ce ne sono molti di più ed è sono esattamente il motivo per il quale il libro è veramente godibile adesso queste tre cose introduttive una è questa l'altra aggiungo un brevissimo scenno autobiografico io nella fine degli anni del secolo passato ho scritto ho curato un numero speciale di ricerche di storia dell'arte sul revival paleocristiano poi ho partecipato alla mostra maestà di Roma e questo si è chiuso l'altra tra il 95 e il 2003 per me San Paolo era una cosa finita poi è uscita la monografia di Grobleski e ho detto va bene San Paolo l'abbiamo sistemato da qualche parte e poi non mi aspettavo invece non mi immaginavo che sarebbe arrivato il ciclone Whitman perché è proprio un ciclone questo nel senso che lui forte del libro che ha scritto sulla scrittura la cultura della stampa la sfera pubblica in Francia nel XVIII secolo ha praticamente quello che ha fatto ha fatto una rifondazione di tutti gli studi che potevano essere stati fatti su San Paolo e ha ragionato appunto in termini di storia culturale ultima notazione che faccio per annunciare come mi organizzo adesso con un testo scritto che ovviamente lui con il lavoro che ha preso moltissimo tempo fare storia culturale non significa parlare di tutto e dimenticarsi le fonti io credo che lui diceva prima Rosconi se si può dire che uno ha visto tutte le fonti lui ci si è molto avvicinato insomma e quindi questo ovviamente immaginate per chi aveva spiluzzicato qua e là la storia di San Paolo anche anche mi era appassionata eccetera migliaia di errori di cose che sono comparsi e devo dire che lui è veramente stato gentilissimo perché non ha infierito per niente c'è una cosa meravigliosa uno dice ah questo il modello soprattutto il modello ligno quello è stato un colpo duro vabbè ecco in ogni caso e questo questa è stata la reazione così proprio personalissima ma la reazione più importante è allora se se si riparla di San Paolo la domanda che ci facciamo è perché oggi studiare San Paolo e l'Ottocento Romano e a questa domanda si potrebbero dare milioni di risposte perché vi potete immaginare quante cose noi parlando salteremo di questo libro ma io mentre leggevo mi sono predisposta a immaginare tre ambiti di risposta uno è quello che riguarda la chiesa il secondo è quello che riguarda lo storicismo e il terzo è quello che riguarda l'architettura poi quando sono arrivata in fondo ho visto che nelle conclusioni brevissime molto chiare del libro fatto da Richard questi tre ambiti più o meno non esattamente coincidevano quindi ci hanno rassicurato e ho cominciato a lavorare allora tre punti quindi il primo sulla chiesa come rispondiamo a questa domanda perché studiare la ricostruzione di San Paolo e l'Ottocento Romano poi molte cose sono state già dette quindi non farò altro che ripeterle potremmo in primo luogo rispondere insieme a Richard per illuminare la storia della chiesa di Roma di una forza rimasta fino ad oggi nel tempo nascosta in diversi punti del libro a partire dal capitolo sui romanticismi cattolici l'autore spiega di quale forza si tratta quando individua con chiarezza il carattere propulsivo della raccolta dei fondi promossa da Leone XII nel 1825 con l'encittica ad plurimas alla ricerca di un nuovo universalismo della chiesa in grado attraverso la ricostruzione questo collegamento che è stato già messo in evidenza dell'edificio paliocristiano raccomandata dal chirografo papale di rispondere dice Whitman modernamente all'egemonia dell'universalismo della classicità pagana in Europa quindi tutt'altro che un'azione reazionaria come è stato affermato nel tempo invece dalla vulgata ideologica sul primo ottocento romano anche dopo la grande mostra della maestà di Roma del 2003 che pure aveva segnato una svolta rilevante in questa dedizione una vulgata che ha spesso confuso malamente i caratteri della nuova architettura su quali torneremo in seguito con i reali movimenti religiosi e politici e con i processi di mediatizzazione che hanno allora animato quel grande tentativo di riscossa della chiesa se nell'edizione inglese che uscirà credo il prossimo anno il titolo del libro sarà rovesciato rispetto a questo cioè prima la ricostruzione di San Paolo e solo dopo il revival cattolico nell'edizione italiana come sapete il titolo è ricostruire la chiesa quindi l'accento è posto su una ricostruzione nel suoi aspetti soprattutto immateriali e poi le specifiche vicende della nuova fabbrica polina la tensione tra questi due poli come è stato già evidenziato si rivela in tutto il libro particolarmente innovativa e feconda il significato complesso ma chiaramente riconoscibile grazie a Richard di una chiesa impegnata a intercettare la modernità nel corso di una battaglia apparentemente antimoderna accomuna anche con ben diverse declinazioni tutti i capitoli dedicati alla cultura cattolica nel corso dell'ottocento e alla sua particolare attenzione nei confronti di uno strumento modernissimo la voce di quella che oggi chiameremo appunto opinione pubblica opportunamente direzionata di volta in volta da coloro che intendevano promuovere come Richard scrive esplicitamente con modalità pubblicitarie il primato di Roma città di Dio più che capitale delle arti e della classicità a partire da Giochino Ventura dalle pagine del Diario di Roma e con lui dagli ultramontanisti e non soltanto dagli zelanti raccolti intorno al Leone XII lo stesso incendio fu allora presentato come una questione preziosa di opporsi ai nemici della Chiesa e di rispondere al pensiero illuminista e alle rivoluzioni dimostrando la devozione del popolo romano indipendentemente dalla qualità artistica delle antiche basiliche e questa insistenza sull'opinione pubblica come è stato già detto la chiave di lettura più nuova e convincente offerta da questo libro e Whitman la utilizza per raccontare di volta in volta e sempre con uno sguardo alle differenze che è un'altra cosa che in questo libro mi è piaciuta tantissimo cioè non si mettono in evidenza le rotture e non le continuità raccontare la presa mediatica della nuova propaganda cattolica e le sue alterne fortune durante il pontificato di Leone XII almeno in parte quella promossa dal pensiero del sacerdote francese Robert de Lamnay interessato come molti dei cattolici romantici cito agli aspetti soggettivi e questa è una cosa molto importante dell'esperienza umana più che alle tradizioni razionaliste della controriforma un'esperienza di devozione a suo modo già popolare di massa che fu poi definitivamente soffocata negli anni 30 dalle encicliche di Gregorio XVI che pure continuava a pubblicizzare all'estero la nuova basilica tramite Luigi Moreschi e Luigi Poletti una presa mediatica che riprese sotto diversa forma nel corso del pontificato di Pio IX le pagine dedicate alla svolta mariana per me anche in parte nuove da Paolo l'apostolo che andava nel mondo a diffondere la dottrina a Maria sono bellissime e ci portano nel cuore del futuro caritatevole della Chiesa affidato alla Madonna visibilmente almeno fino alla metà del Novecento c'è un canto lo dico c'è un canto popolare mariano molto noto almeno quelli che sono vissuti in famiglie cattoliche e che hanno anche una certa età perché non so penso che ancora lo cantino in Chiesa molto famoso che ammira il tuo popolo e poi ti darò il titolo che quando io leggevo queste pagine mi veniva in mente quel canto veramente popolare veramente popolare questa svolta mariana fu introdotta anche dalla risignificazione politica è stato detto nel neoguelfismo degli scritti di Ventura e dal suo stesso ruolo rinnovato tra i consiglieri di Pio IX come esponente di spicco del cattolicesimo liberale le due date di dicembre 1854 infine quella della proclamazione del dogma dell'immacolata concezione e quella della consagrazione della Nuova San Paolo garantiscono in prospettiva ancora il successo mediatico e popolare della Chiesa Cattolica capace ormai di valorizzare gli strumenti di autofinanziamento a larga scala come gli oboli di San Pietro e la devozione empatica dal basso e soprattutto ci fa notare Whitman proprio in ragione di queste alternative potenzialmente disposta la Chiesa a rinunciare al potere temporale non come una sconfitta ma come una possibile condizione del rafforzamento della sua rinnovata universalità popolare secondo punto perché studiare la ricostruzione di San Paolo in relazione alla diffusione dello storicismo in Europa anche qui per capire le differenze più che le somiglianze tra le tante manifestazioni di storicismo che si sono affermate intorno alla ricostruzione della Basilica nei diversi momenti in cui è stato possibile individuarne i segnali di nuovo abbiamo un quadro articolato a tratti anche molto intricato che ci offre in compenso un riscontro preciso a Roma di un fenomeno che ha attraversato soprattutto l'Ottocento in Europa e che come avviene per la parola romanticismo abbiamo spesso qualche difficoltà a definire se non studiandone le declinazioni locali che possono riservare come in questo caso grandi sorprese e motivate rivelazioni è la capacità di far parlare da parte di Richard delle innumerevoli fonti come ho detto consultate tutte e sistematicamente sul lunghissimo cantiere di ricostruzione di San Paolo esteso anche all'indietro agli sguardi sulla basilica prima dell'incendio a sciogliere questa vaghezza della parola storicismo e a rivelare la centralità di Roma in questo particolare ambito di ragionamento sul passato stavolta comincio dalla fine del libro a differenza di quanto siamo stati abituati a pensare per molto tempo questa è un'altra cosa molto interessante lo storicismo cioè gli storicismi che poi in realtà sono la modernità del primo secolo diciannovesimo non sono affatto un fenomeno soltanto nordico e secolare a servizio a diversi nazionalismi e attivo principalmente nell'Europa settentrionale la storia di San Paolo dimostra invece che Roma e il cattolicesimo il sud del mondo occidentale e la religione erano altrettanto attrezzati per percorrere quello stesso sentiero popolandolo di risonanze ancora più complesse e sofisticate che a Roma culla della classicità si trovano ad affrontare un nomico che non poteva essere estraneo a differenza di quello che succedeva nel nord Europa quel mondo classico pagano che era peraltro anche questo è stato detto investito anch'esso in quei decenni dalla stessa attenzione verso la dimostrazione storica del passato le basiliche paleocristiane avrebbero perso in questo modo il loro valore estetico più o meno riconosciuto a favore di un valore testimoniale in quel luogo e non in assoluto una contemplazione cito soggettiva di narrazioni storiche istituzionali e religiose che si potessero percepire in forme ricche di significati piuttosto che ostensibilmente belle scrive Whitman impostando in questo modo complesso e soprattutto contestuale la nota questione di un semplice conflitto tra la forza estetica universale e propulsiva degli iniziali progetti di Valadier e la decisione apparentemente nostalgica di Leone XII di promuovere una ricostruzione in pristinum dell'antica basilica incendiata cioè la memoria arbitraria di Valadier e quella ragionevole del ripristino secondo le parole di Carlofea e evidenziando Whitman puntualmente a questo proposito l'intera gamma di paradossi che questa oscillazione portava con sé prima tra tutti il fatto che le soluzioni esteticamente più relativistiche ci fanno dare cioè l'impristinum fossero promosse da quelli che lui chiama i ribelli tradizionalisti a nome della Chiesa un'istituzione che avversava ogni forma di elevativismo in questo contesto il chirografo papale del settembre 1825 che raccomandava di riportare in vita l'antica basilica paleocristiana senza modificarne più di tanto l'assetto originale tutti noi conosciamo le parole del chirografo ognuna innovazione dove adunque introdursi nella forma e proporzione architettonica diventa effettivamente il chirografo con la carta avanzata di uno storicismo romano di fondazione cattolica è la risposta scrive ancora Whitman quintessenzialmente moderna agli sviluppi moderni formulata anche in un linguaggio moderno il chirografo sarà più volte richiamato nei decenni successivi potremmo dire a sacralizzare storicamente in ogni occasione l'andamento del cantiere lasciando i singoli architetti ai papi ai loro consiglieri e sodali all'accademia di San Luca e alle commissioni preposte il compito di riempire di contenuti quella che era stata soltanto un'indicazione di massa dando voce a una catena di singoli procedimenti storicistici che contribuirono a costruire quella chiesa dell'Ottocento che un altro Richard anzi Richard Krautheimer con una definizione pulminante per sintesi e corrispondenza ha definito un tempio classico cristiano e qui arrivo al terzo punto che è l'architettura perché quindi studiare da questo punto di vista ancora la ricostruzione di San Paolo ripercorrendo con una straordinaria completezza la sequenza dei progetti accantonati modificati le loro genealogie il destino dall'incendio fino alla consacrazione del 1854 Whitman riempie di contenuto quel binomio tra classico e cristiano già segnalato da Krautheimer approfondendone ogni manifestazione anche di dettaglio perché si chiede in una particolare comunità quella della chiesa romana rinunciò apertamente alla verità estetica universale perseguita dal progetto neoclassico di Valadie per affermare nell'impristinum della chiesa precedente all'incendio una propria narrativa storica contribuendo anche in questo modo alla rivalutazione dell'architettura paleocristiana se è vero come si è detto che una chiesa diversa nata da una crisi e da traumi recenti non poteva più aderire a quei valori classici universali che appartenevano ormai ai suoi nemici storici è anche vero che parallelamente non soltanto per una mera questione di cambiamento di gusto un analogo processo dall'interno della produzione architettonica europea seguiva un suo autonomo percorso che anch'esso in quegli stessi anni per conto suo parlava di una crisi della crisi del primato della tradizione classica rinascimentale e dell'inevitabile rivalutazione degli anni della cosiddetta decadenza dall'architettura antica a questi anni al periodo che andava dal IV secolo alla rinascita del XVI secolo lo storico Seroux da Johncourt aveva dedicato la sua celebre storia dell'arte in quell'opera troviamo molti segnali di una nuova visione storicista ma anche le tracce di un sostanziale inedito apprezzamento estetico e a questo proposito Whitman riporta un passo di Seroux molto significativo riguardante San Paolo Seroux scrive sebbene sebbene vi si vedano a San Paolo in tante parti violate le regole dell'antica architettura non lascia di offrirne tuttora un'augusta e sublime immagine e fu in effetti questo tipo di riflesso di queste immagini di ciò che era stato e di riferimento soprattutto al modello spaziale della basilica civile romana a costituire uno degli argomenti centrali dal punto di vista strettamente architettonico dei progetti della nuova basilica ricostruita sia classica che cristiana lo spazio architettonico fisico non poteva essere infatti soltanto una prerogativa dei progetti di Valadier da contrapporre al messaggio politico religioso del chilografo del 1825 lo stesso ripristino a partire dai progetti di Poletti degli anni 30 si fondava su solidi ragionamenti spaziali aperti nel tempo a ogni genere di ulteriori perfezionamenti da affidare soprattutto all'uso dei materiali un uso che qui non possiamo seguire ma il capitolo storie e materiali del libro riserva moltissime novità al riguardo Poletti spiegò e difese nel primo progetto di Pasquale Belli ispirato al chirografo e in seguito nel suo alcuni degli elementi di classicità ereditati dalle basiliche civili e antiche che si potevano ancora riscontrare nel tipo di basilica paleocristiana lo spazio longitudinale al navate colonnato verosimilmente trabeato almeno l'immagine di un ordine architettonico sul muro della navata centrale un soffitto piano ovviamente ognuno di questi elementi poteva aver assunto un suo carattere più o meno compiuto in ognuna delle singole basiliche cristiane costruite a Roma in epoca tardo antica nel momento in cui un chirografo papale stabiliva di ricostruire l'assetto originale di una di loro la pentap prestigiosa prima dell'incendio chiunque avesse dovuto effettivamente tradurre in architettura quell'invito al ripristino dopo aver eliminato le più ovvie interferenze di epoche successive si sarebbe trovato di fronte a varie opzioni quelle classiche che erano però multiple per genealogia per successiva tradizione o per rinnovata scelta e quelle cristiane anch'esse multiple dell'edificio del IV-V secolo delle successive conferme del possibile revival in atto e questa persona che doveva affrontare appunto tradurre in architettura in nome del raggiungimento di una nuova unità architettonica avrebbe dovuto sacrificare l'irraggiungibile purezza dell'una o dell'altra configurazione per non parlare dei nuovi elementi da aggiungere sui quali gravava l'eredità del 500 romano diffusamente adottata nella pratica corrente per non parlare ancora della sottintesa impossibilità di inglobare singoli pezzi in rovina in un insieme architettonico fisicamente rinnovato potremmo anche definire tutto ciò un rompicapo concettuale infatti scrive a un certo punto Whitman come ottenere una limonata vitruviana da limoni paleocristiani esattamente lui lo dice evidente che non è solo quello però perfettamente congruente con tutti i problemi e le intricate articolazioni di questi progetti e degli storicismi a cui facevano riferimento un rompicapo a servizio di volta in volta di diverse filologie di diverse interpretazioni del chirografo utili sempre a far quadrare il cerchio del cantiere il cerchio del cantiere è una cosa importante non è una cosa di seconda per forza un architetto tenta di dare un'unità nelle pagine dedicate al progetto di Luigi Poletti Whitman ci fa toccare con mano la laboriosa predisposizione di ognuna di queste scelte non le cito tutte perché altrimenti prendo troppo tempo che già lo sto prendendo suggerendo Whitman a tratti l'esistenza di due storicismi uno materiale destinato a soccolvere ma qui dovremmo capire in quali altri edifici di quel periodo forse guardando a fuori dall'Italia esiste effettivamente una costruzione compiuta che ingloba pezzi antichi non è semplice tecnicamente dico che non è semplice qualche cosa probabilmente prima di San Paolo prima dei progetti che volevano seguire questa strada forse fuori dall'Italia forse anche lo stesso UPS si può trovare però sono pochissimi quindi in realtà quasi mi viene da pensare che quello sia un falso problema difendere o non difendere la presenza di pezzi ma non lo so in particolare quindi questo era destinato a soccombere e l'altro che potremmo chiamare tipologico che ovviamente si impose invece nella sua inevitabile configurazione dominante appunto classico cristiana le parole di Poletti dalla sua architettura teorica del 1853 riportate da Whitman e da Strozieri sono illuminanti a questo proposito scrive Poletti nel riedificare la basilica ostiense ho preso per norma i precetti di Vitruvio e le più famose basiliche aggiungendovi nella generale a disposizione quanto si richiese ai tempi cristiani e nella decorazione quanto hanno di meglio e di più le eleganti arti moderne anche se poi ci rivela Whitman grazie a uno studio finalmente accurato delle fonti e dei pentimenti del modello ligno che quello è stato un colpo al cuore per me Poletti perché nessuno di noi si era accorto che quella che quella frattura era il pentimento di progetto della facciata Poletti da canito oppositore dell'idea romantica delle arti cristiane in cursuo tra le sue diverse ipotesi nonostante metteva insieme tutto le ipotesi per la nuova facciata prediligeva senza riserve il disegno templare all'antica che poi il nuovo storicismo romantico di Minardi bocciò inesorabilmente Luigi Poletti era molto colto questo Whitman ce lo spiega era un architetto filosofo e patriota profondo conoscitore degli stili del passato anche in prospettiva del loro riuso futuro Richard lo considera giustamente un anticipatore di pochi anni delle idee di Henrik Hübscher l'autore del celebre testo in quale stile dobbiamo costruire del 1828 e dedica anche alcune pagine molto belle ai suoi studi sugli etruschi che Poletti considerava i fondatori dell'identità italiana sto per concludere non si può escludere che siano stati proprio l'incessante lavorio sulle diverse ipotesi del progetto la necessità di dimostrarne la maggiore o minore esattezza l'acume esegetico di cui sicuramente era dotato Poletti a dare vita in realtà non so forse per eccesso di intellettualismo a una chiesa che lei medesima come architettura non sembra essere all'altezza dal punto di vista strettamente architettonico di quanto si è mosso invece intorno a lei e neanche della sua ritrovata centralità culturale io me lo chiedo lo chiedo a Ricci e a tutti sperando che questa osservazione di cui rimango convinta almeno per ora non sia ancora una volta influenzata da una tardata sottovalutazione di quel periodo della storia dell'architettura a Roma si può si può rivalutare un periodo come egregiamente è stato fatto in questo libro non necessariamente quella adesso dico un aggettivo sbaglia è una bella architettura però come non ho altri aggettivi va bene concludo con un'ultima notazione telegrafica che è questa nel raccontare l'ottocento romano Whitman ci racconta anche il presente di molti studi pubblicati negli ultimi due decenni in Italia e all'estero soprattutto in ambiente anglosassone i nomi degli autori di questi studi sia storici che storici dell'arte che qui non abbiamo tempo di citare uno per uno ricorrono nel libro e possono essere affiancati a quello di Richard nell'opera di appassionante aggiornamento che sta investendo i cultural studies quando questi si dedicano come fa questo libro in modo organico e trasversale alla storia delle idee e delle pratiche artistiche come anche alla decostruzione di stereotipi un intervento davvero bellissimo anzi due interventi bellissimi quelli che hanno preceduto il mio e quindi a me spetta se vogliamo provare a vedere di sfogliare questo libro insieme a voi per mostrarvi gli ingredienti prima di farlo però ci tengo anch'io a ringraziare moltissimo per l'invito per presentare questo libro e per me parlare di qualcosa che è veramente consentaneo che è davvero come posso dire mi è sembrato leggendolo più volte coltivare la stessa agenda cioè lo stesso set di domande di questioni di risposte ancora di ancora da raggiungere completamente che muove i miei ultimi vent'anni quindi desidero innanzitutto ringraziare Richard per questo sforzo per questa avventura intellettuale che ha saputo declinare così bene in una storia che è una storia culturale una storia politica una storia delle pratiche artistiche e che al contempo utilizza due obiettivi e usa un linguaggio cinematografico molto diversi quello del grand'angolo perché è una storia profondamente contestuale e che è capace di guardare indietro e leggermente in avanti per consentire di ricucire il contesto ma è anche una storia incredibilmente capace nella macro fotografia quindi di avvicinare davvero tantissimo lo sguardo dello storico all'oggetto che è al centro dell'osservazione e questo si capisce persino dalla copertina dal titolo ne abbiamo già sentito parlare ma persino da piccole cose nella copertina per esempio è riprodotto un dipinto che è uscito all'asta soltanto nel maggio del 2023 quindi per dirvi anche nella scelta della confezionamento di questo volume c'è una volontà di presentare materiali nuovi insieme ovviamente a materiali necessari e già antichi e quindi partire dalla copertina significa partire da uno dei fuochi di questo racconto l'abbiamo sentito già menzionare che è l'incendio sapere che questo libro è riuscito ad uscire almeno in Italia per un bicentenario così importante è un'altra cosa di che mi rende molto molto felice e ecco la capacità Richard Whitman lavora sulle fonti in modo intelligentissimo e queste fonti sono fonti di ogni natura sono naturalmente le fonti le fonti principali che sono quelle archivistiche viste per la prima volta completamente devo dire che anche Grotowski aveva fatto tantissimo lavoro su quelle fonti però forse non era stato capace a porsi delle domande in questo senso contestuali cioè metterle davvero trasformarle in appunto ingredienti di un dibattito che non riguardava soltanto quella fabbrica ecco un libro che prende una fabbrica un libro sul ruolo pubblico che l'architettura esercita all'interno della chiesa di Roma e quando in una stagione di crisi e di conflitto con la modernità con uno dei grandi temi la modernità che emerge intorno al quale gira molte decisioni abbiamo sentito anche rispetto alla politica del primo ottocento è un libro peraltro appunto usando queste fonti è un libro militante e voglio prendere proprio voglio leggere di questo passaggio di pagina 17 perché a volte Richard trova pronto anche in una prosa molto una prosa cristallina una prosa che appunto si va intorno al problema però poi lo affronta non lo mette mai da parte cosa che come sapete purtroppo c'è tanto neanche nella nostra scrittura a volte ci troviamo davanti dei problemi troppo grossi e troviamo una strada per evitarli ecco questo libro invece la dice cerca di dirla ed affrontare ogni singolo problema in particolare ho trovato molto militante il tema che adesso vi leggo dice questo libro respinge quindi le concezioni gerarchiche di modernità europea come fenomeno unitario di emancipazione emerso da prima a Parigi Londra o Berlino e solo successivamente solo successivamente in forma più debole derivata in centri come Roma e stiamo parlando proprio di quegli stereotipi no di cui molta letteratura anche purtroppo devo dire corrente continua a riempire pagine e pagine e ecco queste fonti vengono raccolte sono fonti vi dicevo archivistiche principalmente poi abbiamo un'enorme quantità di letteratura odeporica che viene posta che viene utilizzata sempre per sollevare domande sull'opinione pubblica che si sta formando cioè questa letteratura odeporica che per Roma funziona come indicatore del come vera e propria cartina di tornasole di un'opinione pubblica che spesso è internazionale non solo nazionale ecco questo è utilizzato benissimo da Richard mai per raccontare una storia ma sempre per puntellare per far capire quanti sguardi ci sono su ciò che avviene e questo avviene anche delle fonti figurative e Richard per esempio per lavorare sull'incendio e sulle testimonianze figurative si è posto il problema di tutti questi giovani accademici in particolare architetti che visitano che sono in quel momento all'Accademia di Francia di Roma naturalmente sono a Villa Medici e tra i loro disegni di cantiere spesso conservati come in questo caso all'Ecole des Beaux-Arts segnalano alcuni passaggi nel cantiere distrutto dell'incendio di San Paolo quindi voglio dire c'è anche un lavorio di inchiesta di indagine e questo lo vedremo fra poco tra le tante voci che vengono recuperate ce n'è una che mi ha molto colpito che è quella del giovanissimo Weisman che noi conosciamo come grande autore di Fabiola uno dei forse best seller dell'Europa di restaurazione e che appunto ha funzionato come testo cardine di una letteratura cattolica del romanzo cattolico per eccellenza ebbene questi commenti che Nicola Patrick Weisman fa appena arrivato a Roma da giovane lì dal 18 quindi anche rispetto alla basilica e al senso della basilica ci danno pure un'idea di cosa questo spazio speciale questa basilica patriarcale romana questa basilica palocristiana per eccellenza come era prima dell'incensio significasse per l'intelligenza europea naturalmente quella cattolica e abbiamo sentito parlare già da da Catherine di uno dei grandi temi che trovo sempre siano veramente una delle dei nuovi sguardi garantiti alla Roma di restaurazione che è questo mondialismo e il libro di Richard qui uso una slide che abbiamo commentato insieme perché funziona bene perché vi dà veramente l'idea quando l'incendio distrugge questa basilica una notte in poche ore questa notizia parte diciamo veramente porta di nuovo Roma sulle pagine di tutte le gazzette europee e la stessa cosa avverrà scusate la stessa cosa avverrà quando poi dopo parlo di questo quando diciamo Leone Leone XII penserà a questa idea di di crowfunding di questa grande colletta questa grande sottoscrizione che viene quasi verificata nell'anno del giubileo e che porterà appunto anche lì ad una diffusione cartacea proprio di di volantini ma anche abbiamo capito di cassette dell'elemosina per la costruzione di San Paolo che vengono disseminate in tutte le chiese del mondo in tutta diciamo l'orbe cattolico questo tema questo forte rapporto cioè questo svuotarsi la città che da un lato pensa a se stessa ed è ovviamente spazio ha ragione Catrina a dire che che la città dell'ottocento guarda moltissimo lo spazio urbano lo modifica e lo comincia a fare già dall'età napoleonica ma poi prosegue a farlo ma è anche vero che questo diciamo il mondialismo è un altro modo di guardare lo spazio e di portarlo in luoghi anche molto lontani quindi questo universalismo mondialismo di Roma che passa attraverso strade diverse e nel in questo libro troviamo abbiamo detto tante visuali abbiamo detto la visuale di grandangolo che apre tantissimo quella della macrofotografia però al contempo troviamo anche dei veri e propri profili che sono destinati a illuminare libri nel caso di questo libro Alippi Alippi e Nicolai è il libro fortunato il libro che permette in qualche modo che questa che questa storia della basilica e della sua ricostruzione possa essere in qualche modo davvero si possa confrontare con un materiale davvero filologicamente corretto perché appunto Nicolai trascorre gli anni proprio gli anni peggiori gli anni gli anni francesi a studiare la la basilica di San Paolo la studia proprio angolo per angolo e realizza un rilievo così raffinato della basilica che poi diciamo nel momento in cui viene distrutta esiste una fonte attendibile filologicamente corretta che possa permettere qualsiasi argomento di ricostruzione se ci pensate prima dell'uso del rilievo architettonico perfetto e della fotografia queste cose erano proprio impossibili quindi dedica quindi a questo a questo libro lo spazio giusto così come all'autore anzi agli autori in qualche modo e naturalmente proprio in questo sistema che da un lato presenta la situazione dall'altro da sempre lo sguardo all'indietro mostra pure i passaggi precedenti e in questo caso trovo bellissimo quando riprende riprende così con un'immagine che diventa un'immagine scritta ma poi anche un'immagine nella bellissima nel bellissimo apparato iconografico che Biella ha voluto garantire a questo libro e diventa un ricorso cioè fino a 50 anni prima fino a 70 anni prima questo è il caso una basilica come questa patita di un incendio sarebbe stata presa ricostruita invece in quella particolare temperi così bene ricostruita questo non è più possibile questo anzi non succede e quindi ci fa vedere come sarebbe stata ricostruita negli anni 50 secondo i desideri degli architetti appunto di cultura dei lumi e un'altra dicevo profili questi profili a volte si possono leggere anche in modo isolato quindi questo libro si propone da un lato si presenta come un libro che deve essere letto davvero in modo piacevole come un grande romanzo storico profondamente pirologico ma dall'altro invece poi per chi ci trova per chi ci cerca figure libri bibliografia può essere letto anche parzialmente e il caso di Valadier è molto un nuovo modo di guardare la storia di Valadier disperato disperatissimo che viene appunto che si trova quasi nella situazione di poter costruire una sua nuova chiesa moderna in questa città dove succedeva così poco e che invece nonostante tutte le cose che è disposto a fare a lasciare viene messo da parte raccontata così è veramente una storia appassionantissima e così appunto vengono fuori in questa indagine vera e propria che meriterebbe di essere esplosa in tanti podcast per essere in qualche modo raccontata pezzetto per pezzetto e Richard cerca anche storie minuscole per esempio nel concorso del Clementino del 1824 atto a presentare il problema a San Paolo agli allievi dell'Accademia di San Luca siamo qui quindi perdonato ho inserito un po' queste diapositive visto che sono molto contestuali all'indomani dell'incendio ebbene ci trova va a cercare nell'archivio di Borgo Manero appunto e scova effettivamente il progetto di Molli Giovanni Molli insomma veramente non molto noto e ne mai lo sarà forse e si domanda le cose giuste cioè quanto ci fosse di Valadie dietro oppure quanto invece ci fosse del partito opposto di quella politica che si fa anche utilizzando lo stile modernismo anche per questo grande noi pensavamo che su Fea non ci fosse più quasi più niente da dire devo dire che è una letteratura quella su Fea molto raffinata io ne conosco grande parte devo dire però gli aneddoti sulla Basilica Ostiense di San Paolo che sono preceduti appunto dalla paginetta mandata alla commissione mandata al pontefice che riassume le posizioni di Carlo Fea questo intellettuale strepitoso dell'età di restaurazione sensibilissimo diciamo veramente a quei problemi che ci appassionano cioè il tema dell'antico il tema della purezza e poi la tutela in senso lato i chirografi troppo troppo pensavo veramente invece in questo libro trovate delle pagine inedite davvero anche su di lui e questa era la nota appunto tra i materiali che che compaiono scusate no ho sbagliato ecco tra i materiali che appunto compaiono che in qualche modo veicolano veicolano proprio la lettura vedere bene in grande tutta questa colletta con appunto cento scudi cinquanta quattromila duemilacento settecentotrentaquattro dai viscovi di tutte le cittadine più piccole poi vedere vedere queste tabelle no che mostrano appunto come questa raccolta questa sottoscrizione cresce quanto va poi a diffondersi nello spazio europeo ed extraeuropeo diciamo molto molto rilevante fa parte degli strumenti utili e ci sono appunto anche qui alcuni personaggi di questa storia che effettivamente non hanno proprio saliti a nessun onore Belisario Cristaldi lo ha certamente quando si va a vedere questo è un mio piccolo tributo a Richard non sta nel libro quando si va a vedere in effetti il primo ritratto che si conosce di questo Belisario Cristaldi che era il tesoriere della di questa ricostruzione quindi un personaggio estremamente importante si fa a vedere che il ritrazzino glielo ha fatto Maso Minardi quindi come dire questi fili poi si tengono si annodano e questo è molto interessante così come un'altra figura che tanto familiare a Elisabetta e Angelo Uggeri legatissimo al tema del rapporto tra nella dimostrazione del rapporto tra la Basilica di San Paolo e la Basilica Ulpia come forse ricordate diventerà poi in questo ritratto sempre dell'Accademia di San Luca un anziano signore sordo per cui messo da parte nelle riunioni nelle ultime riunioni della commissione straordinaria per la ricostruzione di San Paolo proprio perché non poteva prendere nessun verbale visto che non ascoltava e questo ritratto ritratto potentissimo forse voi non conoscete questo pittore ma un pittore belga pazzesco che da poco al centro di nuovi studi che dipinge come Michelangelo opere alte otto metri ha un atelier a Roma importantissimo e quindi anche qui diciamo si aprono grazie a questo libro anche altre strade altre piste che è in genere la cosa più bella che si può dire di un libro no? ecco Poletti noi per fortuna abbiamo adesso una bellissima monografia di Iuri Strozieri su Luigi Poletti che davvero già aveva come dire mandato avanti tantissimo i nostri ragionamenti però qui Luigi Poletti veramente è l'architetto filosofo è l'uomo della biblioteca Poletti di Modena che è una delle biblioteche architettoniche in generale una delle biblioteche più importanti della Roma del tempo per quanto riguarda dalle arti queste sono cose insomma che sono sempre più chiare e questa corrispondenza che si ha tra Poletti e Geminiano per esempio la classica corrispondenza domestica familiare apre appunto anche ad un dibattito di famiglia molto colto molto interessante quindi ci fa capire anche un linguaggio quindi dal piccolo al grande dal grande verso il piccolo vado velocissima a proposito dei ritrovamenti sempre appunto cose molto speciali abbiamo anche disegni trovati a Bellinzona di Gaspare Fossati che ci documentano come questo cantiere cresce quindi disegni di Fossati è un architetto e anche e soprattutto un viaggiatore lo conosciamo per le campagne straordinarie di disegni fatte ad Aghiasofia in particolare in Turchia quindi un personaggio che è fondamentale i fratelli Fossati sono fondamentali per la storia ottocentesca turca e lo ritroviamo in effetti a San Paolo poi invece comunque la gita al cantiere per vedere a che punto fosse questo questo cantiere di ricostruzione è un si capisce che c'è appunto una ricezione di questo spazio vado velocissima appunto voglio far vedere velocemente il modello ligno sul quale appunto abbiamo adesso delle certezze e anche delle foto antiche solo proprio facendoci vedere vi faccio vedere un po' il materiale che contiene questo libro perché il materiale che discute questo libro ognuna di queste immagini è necessaria per effettivamente davvero per comprendere il testo quindi è un lavoro molto molto ben fatto e come vi dicevo i vari temi si diffondono trovano diciamo rimbalzi che pensate al mondialismo cioè la chiesa di Roma che cerca i soldi in tutto il mondo e quindi costruisce una vera e propria rete e in qualche modo in qualche modo Richard osserva pure che in quali forme questo mondialismo trova una visualizzazione in luoghi importanti in questo caso nella tomba di Gregorio XVI di Luigi Amici questa storia così tanto extraeuropea si trova una sua visualizzazione così come l'album che è una delle riviste dei settimanali più diffusi di cultura generale raccontano le storie dei materiali che vengono presi in Egitto e che arrivano fanno parte di questa grande colletta dove non arrivano solo gli scudi i franchi ma arrivano anche i materiali e quindi anche la ricezione di questa cosa ha un personaggio importantissimo è Tommaso Minardi che sono contentissima perché è uno dei grandi agitatori culturali di due stagioni diverse lo è fino all'età di Pio IX quando appunto muore nel 1871 e poi Minardi era un po' questo cioè fino ancora fino a dieci anni fa se non si era storici dell'arte se non ci si occupava proprio di Roma nello specifico o al massimo così di Faenza di Emilia cioè Minardi era questo Minardi era il busto sul pincio senza testa appunto a Cefalo e qui il confronto con gli studi significa pure far restituire identità appunto a coloro che furono dei protagonisti e vabbè questo era un altro piccolo regalo così vado appunto il libro racconta quindi questa posso chiudere forse così è un libro è un sarà diventerà secondo me un classico per chi voglia capire meglio interrogarsi ancora più o non solo capire ma anche interrogarsi su questa Roma di restaurazione tra 1800 in particolare tra 1823 e 1854 cioè la data della cerimonia di consacrazione della basica di San Paolo e sarà un mai più senza sicuramente per molti studenti insomma che avranno piacere di leggerlo per noi è stata una bellissima conferma e quindi tantissimi complimenti a Richard e anche all'editrice che ha voluto rischiare con questo insomma sappiamo bene quanto adesso è difficile fare libri di qualità e quindi voglio ringraziare anche lei grazie allora io ringrazio Katrin Briss Elisabetta Pallottino e Giovanna Capitelli per queste tre relazioni così ricche e articolate che hanno affrontato i tantissimi livelli che si intersecano in una pubblicazione come questa e quindi chiamo ovviamente qui Richard Whitman a concludere a dialogare se vuole con le sue relatrici e naturalmente anche invito il pubblico che se ci sono delle domande di approfittare di una presenza così completa sia all'autore che alle relatrici grazie e naturalmente un ringraziamento speciale alla casa editrice Viella e a Cecilia wow non so esattamente cosa dire ma fortunatamente ho un testo preparato che leggerò così devo iniziare con alcuni rapidi ringraziamenti vorrei innanzitutto ringraziare Caroline Brook e l'Accademia Nazionale di San Luca per la generosa offerta di ospitare questo evento è un'emozione non non lo nego tenere questo evento in un'istituzione che è anche una delle principali protagoniste del libro vi ringrazio devo anche ringraziare l'edizione Viella il suo staff e naturalmente la sua formidabile direttrice Cecilia Palombelli per aver avuto fiducia in questo manoscritto piuttosto lungo e anche doveva essere tradotto in italiano quindi non per la prima volta ne sono sicuro per l'ultima la ringrazio infine un enorme ringraziamento a Giovanna Capitelli Capitelli Elisabetta Palottino e Catherine Briss per il tempo e il pensiero che hanno dedicato alla loro interventi oggi che spettacolare collezione di studiosi non potrei essere più onorato e più lustingato dalla vostra partecipazione oggi vi ringrazio e infine vorrei ringraziare tutti voi per essere venuti questa serata di solito credo che quando si scrive un libro il primo impulso arriva con la scoperta di un argomento o di un tema che si capisce essere affascinante e che si ritiene non sia stato adeguatamente esaminato in precedenza questo libro non è nato così questo libro ha avuto un'origine meno ispiratore il mio libro precedente riguardava la società e l'architettura francese del settecento quando quel progetto stava volgendo al termine e si trattava di iniziare a pensare a quale sarebbe stato il mio prossimo libro la mia preoccupazione principale era che non volevo essere etitticato come un specialista del settecento francese per il resto della mia carriera amavo Roma parlavo un italiano rudimentale e sapevo che l'ottocento era un momento storico abbastanza interessante la ricostruzione di San Paolo è emersa come una storia apparentemente molto importante sulla quale ritenevo non fosse stato scritto molto questo accadeva intorno a 2004 e l'ignoranza ha influito sulla mia decisione non sapevo ancora delle pubblicazioni piranistiche di Elisabetta Palottino e certamente non sapevo che esisteva un libro recente di 619 pagine su San Paolo in tedesco se avessi saputo di quest'ultima pubblicazione probabilmente avrei fatto una scelta diversa ma quando ho scoperto Tron und Altar di Michal Kobluski era troppo tardi ormai avevo capito soprattutto grazie al lavoro di Elisabetta che la saga di San Paolo era molto molto più ricca e interessante di quanto avessi inizialmente osato sperare in effetti questa è stata una storia che si è dipanata lentamente per me quasi per riluttanza ma anche inesorabilmente ha continuato a rivelare nuove dimensioni nuove domande nuove sorprese ho finito per provare un profondo senso di gratitudine gratitudine nei confronti di questo gruppo di architetti intellettuali e chierici romani del primo ottocento per essersi rivelato così complesso così contraddittorio così intelligente così perverso così determinato e semplicemente così interessante infatti quello che era iniziata come una storia apparentemente sui costruttori romani di una chiesa divenne presto molto di più una storia su scala globale su come la chiesa cattolica si sforzò di rifare se stessa di fronte ai moderni cambiamenti politici culturali sociali intellettuali e epistemologici alla fine abbiamo un po' già sentito da Giovanna la grande affermazione unificante che sostiene questo studio è che la modernità è stata studiata per troppo tempo come una condizione nata in Parigi Londra Berlino e che solo molto più tardi in forma di seconda mano ha raggiunto luoghi provinciali teocratici o altrimenti carenti come Roma questo approccio è ancora piuttosto pervasivo nei campi della storia dell'arte e dell'architettura dell'ottocento almeno fuori Italia e continua ad informare la storiografia in generale in misura sorprendente l'approccio più ragionevole è invece quello di riconoscere che c'erano e ci sono ancora modernità multiple cioè riconoscere che ciò che stava accadendo a Roma nel primo ottocento era semplicemente una risposta particolare alle possibilità senza precedenti del nuovo secolo una risposta informata da una particolare storia locale da una particolare autostima locale e da una particolare serie di circostanze locale a Londra o Parigi le società ricche potenti e in ascesa tendevano a trarre profitto per così dire da queste perturbazioni e possibilità un luogo come Roma è interessante non per i modi in cui non era come Parigi o Londra ma per i modi in cui ha risposto in modo diverso a queste perturbazioni e possibilità e da una prospettiva diversa una posizione diversa una posizione meno privilegiata e meno celebrativa perché più minacciata quindi insistendo nel raccontare questa storia come la storia di una modernità una modernità particolare ma per questo ancora più interessante si scopre che ogni tipo di cosa inizia a sembrare diversa la decisione di ricostruire una chiesa bruciata come una quasi replica del suo aspetto regionale non appare più come un'affermazione del rifiuto o dell'incapacità di Roma di essere moderna e inizia invece ad apparire come una versione locale romana di quelle stesse ansie moderne sulla storia e sulla sua rivelanza per il presente che stavano colpendo intellettuali artisti e architetti in tutta Europa a questa data di fronte a cambiamenti storici senza precedenti e al crollo di vecchie verità il completamento della cattedrale di colonia viene compreso in termini di poste in gioco culturale in un nuovo tipo di politica di massa la formazione della commissione dei monument historique in Francia viene vista come emblematica di una nuova compreensione del passato perché allora non fare spazio in questa narrazione europea per la ricostruzione di San Paolo il fatto che sia stata commissionata da teocrati autoproclamatasi antimoderni non è certamente una ragione valida all'interno di questa grande cornice come abbiamo sentito il libro porta avanti tre argomenti profondamente intrecciati uno riguarda la teoria architettonica e il suo sviluppo il secondo riguarda il cambiamento dei modi di intendere la storia il providenziale e lo storicista e il terzo ha a che fare con ciò che la saga di San Paolo può dirci sui modi in cui la Chiesa Cattolica come istituzione ha finito per rispondere alle profonde sfide dell'Ottocento concludo dicendo che ognuno di questi temi ha finito per portarmi sempre più lontano dalla mia formazione tradizionale di storico d'architettura le conclusioni che raggiungo rispetto a ciascun tema sono più speculative più a titolo di suggerimento quando più mi allontano da questioni relativamente dirette di teoria architettonica e di design ma questo è inevitabile credo quando si affronta lo studio dell'architettura come non solo un oggetto fisico intenzionalmente progettato nello spazio ma anche come contenente la storia delle sue rappresentazioni la storia dei suoi usi sia pratici che ideologici così la ricostruzione di San Paolo offre un riconoscimento e una riflessione pubblica sulla storia rappresenta una proposta da parte delle autorità delle priorità comuni proprie e in principio della società cattolica in generale costituisce un luogo di comunicazione e di offerta tra un popolo e il suo dio e attraverso la pubblicità San Paolo propone anche un luogo fisico e significativo per sostenere la comunità immaginata del cristianesimo cattolico disperso e così via sembra una cosa strana da dire dopo aver pubblicato un libro di 400 pagine su un edificio ma in realtà c'è ancora molto da indagare e da considerare sulla ricostruzione di San Paolo grazie e viva e viva non so se ci sono domande se ce ne sono bene bene ti ringrazio grazie 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 qui grazie grazie